Grazie a tutti. Come vedi la squadra, le ambizioni di questo gruppo e gli obiettivi stagionali? Allora, come gruppo penso che siamo molto giovani, quindi penso che possiamo fare molto bene. Siamo una squadra imprevedibile per le squadre di giovani. Per il resto, non conoscendo bene i roster delle altre squadre, non mi spilano, però penso che possiamo fare notte.